Luca Piaia, attaccante juniores, autore del primo gol della stagione, della primissima di campionato, è contento? Sì, sì, molto. Abbiamo fatto una bella partita, ho dei compagni di squadra eccezionali, il mister è molto bravo, ha fatto fare un bel affiatamento alla squadra. Tu tra l'altro so che vieni da parecchio lontano, mi è capitato di chiacchierare con la tua mamma. Che mi ha raccontato da dove vieni, quindi ti fai veramente tanti chilometri, ne vale veramente la pena. Sì, sì, è un'ottima società, mi trovo molto bene con tutti, sia la prima squadra che i juniores. Sì, perché tu tra l'altro sei spesso convocato, quasi sempre, o comunque è capitato molto spesso che tu fossi convocato in prima squadra e anche giocato, è una bella soddisfazione. Sì, ero emozionatissimo, però mi sono divertito, è stato bello, sono contento e soddisfatto. Insomma, il battesimo del campionato è stato, direi, alla grande. Come lo vedi questo girone? Impegnativo? Sì, è impegnativo, però noi siamo una squadra molto competitiva e speriamo di farci. Alla fine possiamo riuscirci tranquillamente. Grazie.